La situazione covid nel nostro paese ma anche negli Stati Uniti dove l'azienda Merck nelle scorse settimane aveva annunciato lo studio di una pillola che potrebbe in un certo qual modo combattere il coronavirus. Nelle scorse ore, nel qual caso ieri, l'azienda ha presentato alla FDA americana, alla Food and Drug Administration, l'autorizzazione d'emergenza proprio per questo farmaco. Di questo e altro parliamo insieme al dottor Roberto Cauda che è ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore, oltre a essere anche direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive della Fondazione Policlinico Gemelli. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottore, partiamo proprio da questa nuova arma che potremmo avere nella lotta alla pandemia. Di che tipo di farmaco si tratta? Ci può spiegare? Sì, si tratta di un farmaco che permette di bloccare la replicazione del virus. Non è una classe di farmaci interamente nuova, nel senso che farmaci analoghi a questo sono stati con successo utilizzati ad esempio per il trattamento dell'infezione da HIV, dell'AIDS. In realtà questo farmaco è una molecola che si lega all'RNA, cioè quindi al patrimonio genetico che il virus replica e replicandosi da l'infezione e la malattia e blocca questa replicazione e quindi blocca l'infezione e permette quindi che le persone non si ammalano. I risultati, mi sembra come lei stesse accennando, sono stati molto buoni, tanto che la Merck, che è la prima di una serie di aziende, perché molti stanno studiando i farmaci magari analogo a questi oppure diversi da questo, ha chiesto all'FDA la possibilità di produrlo e di metterlo nel mercato. Allora, due cose significative. La prima, i tempi eventuali nel momento in cui ci fossero queste autorizzazioni e l'altra, bisognerebbe provare a capire con lei, professore, se trattandosi di una pillola poi ci potrebbe essere la via dell'autosomministrazione oppure se comunque bisogna passare da tutto un percorso come è stato fatto per i vaccini. Ci aiuta un po' a capire? Sicuramente, nel senso che innanzitutto il nome, non l'avevamo detto, è il Monupivar, che è appunto il nome di questa molecola, questo farmaco che verrà, io penso, commercializzato entro l'anno. Poi, una volta che passasse l'FDA, dovrà essere valutato anche da lei, ma è in Italia dall'AIFA. Si tratta di un farmaco che si prende per bocca. La durata di questo ciclo è di 5 giorni. La Merck ha fatto sapere che potrebbe produrre almeno 10 milioni di cicli di terapia entro l'anno e molti di più il prossimo anno. Però vorrei che si evitasse di fare confusione, nel senso che non è che questa pillola comunque venga presa a casa nelle fasi iniziali della malattia, sostituisce il ruolo determinante dei vaccini. Faccio un esempio, questa pillola riduce, in base alle prime analisi, il rischio di ospedalizzazione del 50%. I vaccini prevengono le forme gravi di malattia e quindi anche l'ospedalizzazione di oltre il 90%. In altre parole, è meglio prevenire che curare. Questo nulla toglie alla validità di questo farmaco e di quelli che verranno e dei monoclonali che già sono con noi da alcuni mesi. Però evitiamo di pensare, adesso c'è il farmaco, non ci vacciniamo più. Perché il problema non si risolve con questo farmaco, né con ogni altro farmaco che dovesse venire. Il problema si può solo risolvere con una massiccia vaccinazione. È chiaro, dottore. Quindi lei sta dicendo che quando anche il farmaco dovesse essere prima provato e poi commercializzato, comunque non arriveremo mai, almeno con le evidenze attuali, a poterlo sostituire con il vaccino? Assolutamente no, non esiste, se non forse per l'epatite C, per quella quale il vaccino non è stato ancora. Ci sono degli studi, studi anche molto importanti per il vaccino, ma l'epatite C è possibile, si pensa, eradicarla grazie ad una terapia efficace. Ogni altra malattia che è stata eradicata, primo fra tutte il vaiolo, è stato fatto grazie alla vaccinazione. È importante però avere una terapia o più terapie, proprio perché visto che il virus continua a circolare, le persone si infettano e possono avere delle forme anche gravi, questo può veramente fare la differenza in senso positivo. Assolutamente. Professor Cauda, tra poco ci salutiamo, ma ci sono molti argomenti che creano dibattito in queste ore, uno in particolare portare il tampone a 72 ore alla sua validità, anziché a 48. Vogliamo chiederle se è rischioso oppure no? La risposta sì, è rischioso. Evidentemente queste sono scelte di natura politica. Uno poi può ponderare tra un rischio con questa situazione epidemiologica, che è il netto miglioramento, ma la pandemia è ancora tra di noi, e il fatto puramente medico che dal punto di vista medico è chiaro che il tampone fotografa una realtà che non è proiettabile nei giorni successivi. Quanto più giorni tu lo rendi valido, tanto più aumenti il rischio che in quei giorni una persona che è da negativa può diventare positiva. Quindi dal punto di vista medico l'allungamento a 72 ore può rappresentare un rischio. Perfetto, chiarissimo come sempre. Grazie dottor Cauda per essere stato con noi questa mattina, averci illuminato appunto su tutte queste materie. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. Buona giornata.